Benvenuti, figlio Carole said you can leave Leave? I can't even set foot outside the door Not now Please calm down and tell me what's going on They're after me Who? Who's after you? Sigismund's people of course Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms Of Nicopolis Now he's decided to pay me back What am I to do? What makes you think someone's after you? When I was on my way to Sassau I saw Baron Pekar in Kosterlitz He was with Sigismund on the crusade As was I Now I've been told he was seen at the local tavern And a stranger's been creeping around the gardens here Late at night My god There are signs Someone was trying to force the door They're after me Henry The lord preserved me They want to kill me Take it easy If someone's after you I'll see to him I'll have a sniff around the town Or lie in wait for him I don't know What if he sneaks past you? He won't I promise I'll hide in the garden And if anyone starts creeping around after dark I'll catch him You will Won't you? Good Good And be sure to hide well If he sees you He won't come Tendi l'assassino a mezzanotte Oh Aspetta Missioni Ah ok Ah Alcone informazioni su Paychar Però devo andare in città Allora Ok Facciamo così Mettoni tutto Pestiamoci Ok Così almeno sono Sembo più un cavaliere Così Ok Perfetto Cavallo Andiamo Visto che ho ancora tempo Ok Giorno Andiamo prima a chiedere informazioni in città Su chi lo sta cercando Per cosa Per quale motivo Eccetera 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 Allora Prima chiediamo qua in taverna Vediamo se qualcuno Sa qualcosa Magari il locandiere Cittadino Cittadino Boh Vediamo No Questo non sa niente È un cittadino comune Il locandiere God be with you Would there be a master Paychar here by any chance But of course What's your business with him Ah Abbiamo trovato Che aspetta No perché qui Why's he come here Why so inquisitive My master's thinking about a trade he proposed So I'm asking around to see if he can be trusted He's a decent man He pays his debts And he's certainly no cheapskate They say he trades in cloth What does he look like Oh He's easy to spot If I had clothes like his I'd sell them And live happier On the take-ins What kind of man is he People like him well enough And as for me Well Half my profits Are his doing Thank you Grazie L'abbiamo trovato subito Ok Vediamo Devo riconoscere dai vestiti Cittadino Forse è lui È lui Eccolo God be with you Would you be Master Paycar I would With whom do I have the pleasure Henry Of Scullets And what do you want from me Henry of Scullets Er To ask why you've come to Sassau An interrogation then I see On business of course And who is it you're doing business with Why don't you ask her about my mistresses instead My trade partners are my own private concern Stay away from Master Kieser Kieser? Conrad Kieser? Why should I want anything to do with him? So he doesn't need to worry about you Worry? Good Lord no Why We were friends Hmm Right That'll be everything As the Master instructs Vabbè Non sembra lui Non sembra eh Però Allora a un certo punto Niente Attendiamo Questo assassino a Mezzanotte Nel Nel giardino Del Di casa Insomma Lì insomma Avete capito Ecco Ok E' mezzanotte Anzi Togliamoci Eh per forza Se no faccio un baccano Della No Della madonna Ok E dai Ok Perfetto No mi sono toccato i pantaloni Vediamo Chi è che sta qua Quasi quasi mezzanotte Eh Ok Che viene qui Io non vedo nessuno Vanno pochissimo Mezzanotte Ma qual è la casa C'è che ha visto uno A girarsi nel giardino Sarà questo il giardino Oddio Qua c'era un fosso C'è una tomba Che altro Oh No Non lo so Io non vedo nessuno No Spero abbia una torcia Però Così lo vedo io Perché se non ha nulla Non vedo Già non vedo niente Oh Adesso mezzanotte è passata Ma Non c'è nessuno qui Doviamo entrare Chi è? No Non gli posso neanche parlare A parte che c'è uno guardia fuori dalla porta Quindi di cosa si preoccupa Oh E io qui Non vedo nessuno Eccolo E lui E' Pecia You can't get away from me What? What are you talking about? Silence For God's sake I caught you in the middle Of an assassination attempt Assassination? What are you on about? You told me to my face You were here purely for business That Master Kieser Had no reason to fear you And then I catch you Sneaking up to his door Kieser? He's living here in the monastery Perfinto Tonto Yes Right here in this house What's your business here? It's all a terrible mistake I have a long standing arrangement With a custodian here Sir Sebastian von Berg I supply him with salt and spices And I've come to realize How he's been cheating me repeatedly The dispute's been running for a while And still has legs So I wanted my money back That's all I've no quarrel with Conrad Mmmmm Bah Sembra sincero All right I suppose I'll have to take your word for it Stop creeping around here at night And trying to break into the house Conrad is scared half to death And I need him in his right mind Very well That does sound like Conrad I'll think up some other plan Ok What the hell? Era tutto un equivoco Spero eh Mi sembrava sincero Però Dov'è? Ehi Well Did you find anyone? Sì Sì I did And? You needn't fear I kept watch the whole night Nothing happened A few folk passed by But nobody dangerous And what about Pekar? Are you saying He has no malicious intentions? None He's just doing some trade With the custodian That's what brought him To where you were Well If you're sure But I'd still rather lie low For a while Come to Talmberg You'll be surrounded By a whole garrison there Eh Fatty Yes Yes I suppose that does make sense Thank you Henry I'm in your debt We'll meet at Talmberg Quindi se andava a Talmberg subito C'è un intero esercito lì Che Beh esercito magari no Però Ok Che Oddio Ok È arrivato in ritardo Ehm Sì un intero Esercito Che lo Diciamo lo protegge Comunque fa la guardia Voglio dire Boh Strano Vabbè Rimettiamoci le nostre cose Un continuo di togli Metti qua Ma Scusa Ah ok È arrivato dopo Niente Ci ha messo un po' Va bene Allora io direi Che Missioni Vediamo Aggiorni a Feifar Su Conrad Quindi devo tornare a Talmberg No Sì Esatto Va bene Va bene Che succede A well chosen sight You want to strike the gate Do you True We don't want to do more damage than necessary I quite understand Sir Toph is holed up there Is he Just so Master Conrad I hear you have some accounts to settle with him Ah Not entirely I've done with him Sigismund trusted him more than me In his campaign against the Ottomans And we all know how that ended up Uh How did it end up? Badly my lord The flower of French knighthood was slain there Sigismund fled for his life And I did too I must confess Be assured We shall not make the same mistake here We do not intend to starve them into submission But to break down the gate I am at your service my lords We will build the trebuchet quickly It will be ready in a matter of days And I can supply for example Rocketta To sweep the foe from the battlements Rocketta I do not believe I've heard of such a term Rocketta Are missiles Filled with black powder With a touch hole at the bottom To ignite it They shoot forward Something like a hand cannon But without rocks The rocket is the missile I see But we don't have black powder in these parts Nor cannon Indeed It should have occurred to me But I am very fond of Rocketta And I always think What Alexander the Great Might have accomplished with them I understand We find ourselves In a conventional situation That demands a conventional solution I'm still hoping that Toth will see since And parley with us He may well do so Especially when we set up the trebuchet On his doorstep Ok, sono un po' stanco, eh Dove andare a dormire Devo parlare con lui Aspetta, non c'è un letto Per riposare un attimo Giusto Sì, c'è Non so se è mio Ma io Me lo prendo lo stesso Perché mi ha dato L'obiettivo Uccidi Pager Io non l'ho ucciso Eh Sono andato a dormire Scusa, eh Non lo so Misteri Ne parlare, va Il l'ho ucciso Pagano Il l'ho ucciso Il l'ho ucciso Mi ha dato Mi ha dato Mi ha dato Mi ha dato Un'un Con un'un Si Non Non Con un'un Con un'un Con un'un Qual è il tuo bambino? La chiave del baule di... Ok, ma dov'è il baule di questo qua? Sarà qui, oh Attendi il termine della costruzione del trabucco Prima era molto difficile, quindi non è suo Molto difficile, molto difficile Qual è la tua tenda? Scusa, eh Non... Aspetta, missioni Eh, attento che è pronto tra qualche giorno Però... Oh, ok Cioè, non lo so Questa non è la sua tenda È la tenda di un lord Forse è questa Beh, insomma No, non c'è nessun baule Ah, devo scovare la... La tenda Però un indicatore potrete metterlo in questo caso Io cosa ne so? Qua è la tenda di lui, di sto tizio Magari non è neanche qui Adesso che ci penso È magari più giù Tipo qua Giro tutte le tende Beh, adesso sì Giro tutte le tende Devo aspettare che il trabucco è pronto No? Allora, giriamo tutte le tende Alla fine Il baule l'ho trovato Deve essere questo Perché c'era scritto sblocca Era qui E dentro c'erano sei groschen Un altro bacinetto italiano Che ce l'abbiamo già Da un pezzo E deposito sul cavallo E poi le manopole di Magdeburgo Che però Sono praticamente simili alle manopole milanesi Solo che quelle di Magdeburgo Difendono di uno in più In percossa Cinque anziché quattro Però a parte questo Poi Cioè sì Sono un po' più appariscenti Danno più carisma Però io Se permettete Mi tengo le manopole milanesi Essendo di Milano Eh dai Eh Allora Niente Dobbiamo aspettare Che Il 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 trabucco Sia pronto E io però Non sapendo che fare Quasi quasi aspetterei proprio qui Impalato Qui Farei un'attesa di 24 ore Di un giorno Vediamo un po' Che succede Quanto devo aspettare Ok Ho aspettato due giorni Praticamente E adesso Vai ad assistere Al collado del trabucco Va bene Beh che devo andare qui Con chi devo parlare Ah no Devo entrare nella tenda Va bene All'epoca Era alta ingegneria Devono aver spettuto mira Forse gli abbiamo messo paura Move Move Goddammit I have to get to Sir Divish Sir They're coming There's no time Someone bring water Breathe man You'll be alright Who's coming? There's an army On the way And they're carrying The colours Of Havelmedic Of Valdic And they're very close Havelmedic Is surely not Coming to help us Not that bastard I have a score To settle with Gentlemen Toth's reinforcements Are about to descend On us That's swine How many men Well sir If my joints Don't deceive me And they rarely do It'll rain It'll rain buckets Here We'll make a stand here I and Radzig's men You will wait Until they charge us And then strike them From the rear Here And here If we succeed We'll have it over And done with Before they notice Anything in Talburg It might just work But we'll have to leave Someone in the encampments In case they do Come out of Talburg A few men Will be all I need Well that depends On whether you can Hold out We don't even know How many there are We will Hold out I'll give the orders To my men We will be ready My part in the battle sir I wanted to go With the Scalets men I need more than that From you More sir If we can't hold out At the quarry We're finished You I Hanish And Radzig And since Hanish Is commanding the flank attack Radzig is captive And I'm wounded Captain Robard Will be leading on the field Of course Who better There's no question Robard's a good commander But Many of the men Will be from Scalets We need someone there Who knows them And has their respect Sir I mean you Henry But That is Not So No So Do you really think I'm someone The men could look up to Henry If it weren't for you We wouldn't even Be here today And everyone knows that Except you It seems In the battle You and a group Of Scalets men Will be concealed In the woods Over the road But sir I think I should Quiet Don't underestimate The task I'm setting you You'll have to keep Nervous men on a short reign And not attack too soon And then Conduct the attack On the rear So fiercely and quickly That the foe Has no chance to react If The line should start to break We need someone With their head firmly On their shoulders To keep control Of the men Hmm Very well sir That's what I like to hear When you're ready Go and join the Scalets men They'll be mustering In the woods Above the road To rotate Come andare così Degli uomini Boh Dal nulla Uh Vabbè Proviamoci Cioè Quando sei pronto Raggiungi il campo di battaglia Dove si trova Questo campo di battaglia Hmm Facendo un discorso Va bene Ehm Mappa No Missioni Ah è più a nord Sì Ok Va bene No Io sono Direi che sono anche pronto C'è ancora questa qua Attiva Del prete Vabbè Ok Andiamo Comandare questi uomini